Il prossimo 10 febbraio al Teatro Sociale di Sondrio ci sarà una serata musicale dedicata al grande cantautore Fabrizio De Andrè. Uno straordinario omaggio Fabrizio De Andrè con un repertorio senza tempo. Sarà questo il concerto che terrà Pier Micheletti, storico bassista del cantautore genovese, il 10 febbraio prossimo al Teatro Sociale di Sondrio. Più di un semplice tributo assicurano gli organizzatori e a 25 giorni dall'evento c'è da crederci, il concerto è già sold out. Volevo fare un ringraziamento a tutte le persone che hanno acquistato il biglietto ed è un sold out totale al Teatro Sociale di Sondrio il prossimo 10 febbraio per questo omaggio straordinario al più grande cantautore e poeta di tutti i tempi che è Fabrizio De Andrè. Con la band, una band straordinaria, il Faber per sempre, diretta da Pier Micheletti, direzione artistica di Pier Micheletti, bassista straordinario e amico intimo di Fabrizio De Andrè, con il quale ha collaborato negli ultimi 18 anni di vita di Fabrizio, con Fabrizio De Andrè sui palchi, nei teatri e suonando in tantissimi dischi in studio con il grandissimo Faber. Dopo aver ospitato i Palps Dogs, il Teatro Sociale di Sondrio torna quindi a proporre un secondo concerto rock, un genere musicale diverso dai classici proposti per raccogliere tutti i gusti musicali del pubblico della nostra provincia. Io colgo l'occasione per ringraziare innanzitutto il Comune di Sondrio che ha organizzato la serata, l'assessore alla cultura del Comune di Sondrio, l'avvocato Marina Cottelli, e l'ufficio 20 del Comune di Sondrio che ha reso possibile questo straordinario omaggio a Fabrizio De Andrè e ai tantissimi sponsor che hanno creduto e hanno contribuito in modo importante a rendere possibile questa straordinaria serata e questo straordinario evento musicale. Felicissimo Ezio Bianchi a cui è stata affidata ancora una volta la direzione artistica del concerto organizzato dal Comune di Sondrio. Avere la direzione artistica di una serata così prestigiosa in un teatro straordinario e bellissimo qual è il teatro sociale di Sondrio è una soddisfazione immensa. Grazie ragazzi e grazie a tutti i telespettatori di Telemonte Neve.